5 milioni e 200 mila euro. È questa, stando all'amministrazione comunale di Enego, la cifra necessaria per mettere in sicurezza definitivamente il territorio dai possibili rischi idrogeologici ed evitare che episodi come quello accaduto in località Fosse il 25 giugno 2017 non si ripetano. Il progetto, spiegano dal Comune, prevede un percorso alternativo delle acque bianche in modo da bypassare la contrada ed evitare che possano nuovamente esplodere le condotte fognarie. Intanto il Comune di Enego ha presentato alla Protezione Civile Nazionale una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla frana della scorsa estate. Dopo il riconoscimento da parte del Consiglio dei Ministri dello Stato di Emergenza dovrebbe essere ormai questione di poco per conoscere dunque l'ammontare della cifra che sarà destinata al Paese dell'Alto Piano.